Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video oggi 16 dicembre, dai bè mi è arrivato un pacco comunque questo pacco proviene dalla Francia comunque chissà cosa ho preso su ebay comunque questo è un unboxing pre natalizio comunque adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing cosa ho preso? il film la stella di laura del 2004 questo film lo volevo comprare su amazon ma costava un casino costava 19 euro e qualcosa, l'ho preso su ebay totale tutto 11 euro e 60 il film dura circa 80 minuti è l'edizione francese e comunque e comunque contiene anche la lingua italiana fortunatamente poi come extra ci sono la colonna sonora del film, gli autori i colori degli artisti, i colori della produzione le composizioni di una scena e giochi interattivi in pratica dunque, qui c'è scritta la trama che in pratica il film, vabbè parla un po' di quello che vi ho parlato del libro alla fine comunque spero che Warner Bros è distribuito dalla Warner Bros comunque spero che Warner Bros Italia ne faccia una ristampa di questo film, spero che sia un film stupendo e spero che ne facciano anche un'edizione in blu-ray e comunque la copertina è molto carina comunque... cioè... mh... molto ben fatta la bambina in questo film però anche se mi piace di più quella del cartone e niente, ci vediamo alla prossima